Musica Cari amici sportivi buonasera Buonasera puntata numero 26 di RTTR Volley Si giunge a questa puntata con il pass per le semifinali in mano e in tasca E questo grazie al successo in, chiamiamola gara 2, dei quarti di finale playoff Scudetto In casa di Molfetta in Puglia Allora noi non potevamo che avere un pugliese doc in trasmissione con noi E questa sera qui Max Colacci Ciao Max Ciao a tutti Buonasera, buonasera, benvenuto E beh partiamo proprio da lì Partiamo dalla tua Puglia che non hai visto No praticamente no Siamo arrivati Sabato sera Abbiamo, siamo andati in hotel La domenica l'abbiamo passata Tra allenamenti E la partita sempre al palazzetto Quindi ho visto ben poco Fortunatamente Insomma sono riuscito comunque a vedere i miei genitori La mia famiglia Quindi almeno quello Gli hai regalato Insomma gli hai fatto un bel regalo alla tua famiglia Un bel dispiacere invece alla tua Puglia Perché vabbè Però insomma E loro erano arrivati per la prima volta fin lì Alla seconda partecipazione In campionato Prima volta ai playoff Direi che possono essere soddisfatti Ma assolutamente Secondo me hanno fatto un grande campionato Hanno raggiunto un ottimo livello Insomma di gioco E sono andati a playoff per la prima volta In casa Hanno disputato delle bellissime gare Hanno battuto squadre forti Abbiamo perso in campionato a Molfetta Quindi credo che possano tenersi soddisfatti Direi proprio di sì Voi invece avete continuato State continuando il vostro cammino Immacolato in casa Fuori vi siete presi questa rivincita Avevate perso 3 a 2 l'andata Era importante vincere Era importante farlo sprecando Mene energie possibili Non hanno mai mollato Giustamente Il sangue è quello Insomma sangue caliente Che tu conosci bene Sì sì assolutamente È stata una battaglia durissima Per fortuna questa volta è finita In maniera diversa rispetto al campionato Ma sapevamo che sarebbe stata dura Perché loro ci tenevano a far bene Davanti al proprio pubblico Un palazzetto caldissimo Io conosco bene Insomma il tifo del sud Però bene Insomma per noi era importantissimo Innanzitutto superare il turno Era il primo obiettivo di questi playoff E poi l'abbiamo fatto in sole due gare Quindi ancora meglio Adesso abbiamo una settimana intera Per preparare la semifinale Parleremo anche di quello adesso La semifinale La papabile avversaria Intanto andiamo a chiudere il discorso Molfetta Andando a vedere il nostro servizio Poi ritorniamo tra pochissimo Bisognava archiviare la pratica In modo vincente Farlo spendendo il minimo delle energie possibili E nel più breve tempo possibile Ecco la mission dell'Energy T di Atega Trantino Nei quarti di finale L'operazione Molfetta È stata portata a termine Seguendo alla lettera Tutte le consegne Certo Gara 2 È durata 5-7 Ma non bisogna mai dimenticare Né sottovalutare Gli avversari E la loro voglia Di lottare Fino alla fine Proprio come ha fatto il club pugliese Nel terzo sette di gara 1 E nel corso Tutta la partita In gara 2 Sempre in rimonta Per i padroni di casa Non a caso Il parquet di Molfetta Era stato uno dei pochi A riservare una sconfitta a Trento Era il 25 gennaio E finì 3-2 per i padroni Questa volta il quinto Solo sono aggiudicato gli ospiti E con lui anche il pass Per le semifinali Si tratta della settima semifinale playoff Negli ultimi 8 anni L'ottava assoluta Della Trentinovolle In 15 anni di attività Il cammino di Trento Si incrocerà con quello di Verona Oppure Perugia Carattere Muro A segno a 19 volte in 5-7 11 solo con i due centrali Sole e Birarelli Linea verde E interscambiabilità Sono state ancora una volta Le armi vincenti Best-corer Kasischi Con 15 palloni vincenti Segue a ruota lanza Con 14 A regalare l'auto Tutti i frutti anche La diagonale Giannelli-Giuric Partiti in panchina Ma rivelatisi Poi decisivi Sul parquet Siamo stati bravi a recuperare Quando abbiamo perso il set Secondo me Potevamo chiudere Già in 4 set Loro l'hanno prolungato Siamo stati bravi Al timer Comunque Ad imporre il nostro gioco E Momenti importanti A A superarli E adesso Ci aspettano delle partite difficili E torneremo subito in palestra Per lavorare al meglio E migliorare gli aspetti Del nostro gioco Succede solo a chi ci crede Ci aveva scritto Quando era venuto a trovarci qua In trasmissione L'ultima volta Max Colacci Una delle riflessioni Una delle idee Vedi che Più carine Più profonde Ce ne sono state tante Particolari La tua è una di quelle Che ci ha colpito di più È vero È verissimo E soprattutto rispecchia La vostra grinta Il vostro carattere La vostra verve La vostra voglia di vincere Sì assolutamente Per questo è una frase Che Insomma caratterizza un po' La nostra squadra Ci accompagna da Da tanto Una frase Che spesso i nostri tifosi Insomma Ci hanno dedicato Diciamo Soprattutto nei momenti Un po' difficili O anche Due anni fa Prima della finale Contro Piacenza Quindi sì Noi ci crediamo sempre Lo stiamo dimostrando L'abbiamo dimostrato Per tutta la stagione Soprattutto nei momenti Di difficoltà Perché spesso capita Durante una gara Di subire un po' E lì bisogna crederci sempre Perché una squadra Forte Deve saper soffrire E andare avanti Solo così Insomma Si possono raggiungere Degli obiettivi importanti Max allora Intanto diciamo Agli amici a casa Che si giocherà Abbiamo detto Si è passato in semifinale Si giocherà il 25 aprile Gara 1 di questa semifinale Si giocherà le 18 Qualora ci dovesse essere Una diretta televisiva Chiaramente Rai Sport Si anticiperebbe Al massimo di mezz'oretta Quindi cambierebbe poco 17.30 al posto che 18 Al momento È gara 1 Il 25 aprile Dal Palatrento Alle 18 Tra l'altro Non approfitto per dirvi Che gli abbonati Avranno il diritto Di prelazione Fino alle ore 18 Del 22 aprile Si giocherà Tre giorni dopo Se non erro Gara 2 Poi se ci dovesse essere Gara 3 Perché anche la semifinale Sarà il meglio Delle tre partite Si giocherà Il primo di maggio Queste sono le date Da assegnarvi sul calendario Beh adesso rimane da scoprire Chi Tra Verona Dove Max ha militato Ma era il 2008 2009 E Perugia Arriverà A questa A questa semifinale Sono 1 a 1 Chiaramente Giocheranno mercoledì Mercoledì sapremo Se Perugia Oppure Calzedonia Verona Non fare come tutti i giocatori Che mi dicono Che una squadra vale l'altra C'è qualcuna Che preferisci Non incontrare O qualcuna Che preferisci Incontrare Guarda Sono due squadre Diverse Perché Secondo me Verona Punta molto di più Sul collettivo Mentre Perugia Probabilmente Ha qualche individualità In più Non lo so Veramente È dura Scegliere Io Sinceramente Vedevo un po' Più in forma Verona Invece Questa vittoria Di Perugia A Verona Mi ha stupito Un po' Probabilmente Verone In questo momento Ha qualcosina In più Perché Riesce ad esprimere Un livello di gioco Molto alto Anche se poi Ha perso L'ultima partita Quindi è difficile Scegliere Sinceramente È difficile Io Guarda Preferisco pensare A noi stessi So che Come tu si dice Sempre questo Ma è vero Una squadra forte Deve pensare Innanzitutto A se stessa Noi sappiamo Che abbiamo Delle grandi qualità Dobbiamo solo Dimostrarle in campo Questa è la cosa Più importante Anche perché Questa volta È ancora più vero Che una potrebbe Valere l'altra Anche perché Secondo me È il quarto Più equilibrato Di tutti Sì sì Assolutamente Assolutamente Infatti Insomma L'hanno dimostrato Verona è andata a vincere A Perugia Poi Perugia Ha vinto a Verona Sono due squadre Comunque Molto vicine Insomma Tecnicamente Con caratteristiche Diverse Ma comunque Due squadre Di ottimo livello Max il 15 di marzo Contro Città di Castello Il primo di aprile Invece Contro Monza Sono state due giornate Particolari per te Perché hai fatto Le prestazioni Per l'ennesima volta Ottime Hai trascinato la squadra Hai tirato su tutto Ricezione Difesa E sono stati Sono arrivati due titoli Due titoli Uguali ma diversi Sì assolutamente Per la prima volta In carriera Ho ricevuto Insomma Il premio di MVP Qua tanto la regia Ci manda le immagini Proprio di vero Di vero volley Sì Però sinceramente Quello Il premio che più mi ha fatto piacere È stato quello Dei tifosi Perché so quanta fiducia Hanno i miei tifosi E questo Insomma Fa tanto piacere Per un gioco Quello ufficiale Era questa partita qua Con Monza Sì Quello ufficiale Quello dei tifosi Altrettanto ufficiale Ma ufficioso In rigore di Lega È arrivata la partita Penso due settimane prima Era il 15 di marzo Contro Città di Castello Sì, sì, sì Assolutamente Il premio MVP Certo I premi individuali Fanno sempre piacere Però alla fine Le vittorie più belle Sono quelle di squadra È bello quando si alza Un trofeo Quelle sono le vittorie Più importanti Perciò dicevo Che mi ha fatto molto piacere Il Diciamo L'NVP Che mi hanno dato I tifosi È stato veramente Un bellissimo riconoscimento Hanno dato l'NVP A Max Alla termine di questa partita Contro Altrettanto Città di Castello Anche qua Hai fatto una prestazione Secondo me Maiuscola E Però è stato Quello di Modena Di Monza Due settimane dopo È stato il primo Sì, sì Il primo in carriera Assolutamente È una cosa a cui non ci si creme Eh Sì Io mai Lascia il tempo che trova Il titolo MVP Ok Però comunque sia Sì, no Fa sempre piacere Io l'ho detto Speravo un giorno Di poter Prendere Vincere un MVP Per un libero Insomma Capita Raramente Perché spesso Si dà Chi fa più punti E quando non ci sa chi darlo Viene premiato il palleggiatore Funziona così Però insomma Finalmente Ci sono riusciti È stata Una bellissima soddisfazione Max Come sta Trento Come vi state allenando Come sta andando No Siamo Stiamo bene Stiamo bene fisicamente Questa è la cosa Più importante Perché arrivare A fine stagione Con una Buona preparazione Fisica Credo che sia Importantissimo Purtroppo in questo periodo Abbiamo avuto poco tempo Per allenarci Tecnicamente Tante trasferte Trasferte in Russia Trasferte molto lunghe Tante partite Però alla fine È il bello di giocare In una squadra Come Trento Quella di giocare sempre Perché giocare Mercoledì e domenica Significa lottare Per tutti gli obiettivi Insomma Arrivare in fondo A tutti gli obiettivi Niente Adesso fortunatamente Abbiamo una settimana Intera Per preparare Gara 1 Di semifinale Era da tanto Che non ci capitava Quindi bene Potremmo Sfruttarla al meglio Direi proprio di sì La caratteristica Sulla quale tu Vuoi Vorresti ancora lavorare Ma noi Dobbiamo sicuramente Sfruttare meglio Le occasioni Che ci creiamo Durante le gare Così intendo Tante volte Siamo magari avanti Qualche punto Ci creiamo Dei break point Dei possibili E non li sfruttiamo Poi Come è successo A Molfetta Vabbè imbattuta Ierezzuelo O Schett Insomma Sono loro che fanno Un break E la partita Torna di nuovo in bilico Noi dobbiamo essere Più cattivi In alcune situazioni Soprattutto nei momenti Importanti Della gara Insomma Soprattutto in queste gare Che saranno decise Dai piccoli dettagli Quindi secondo me Possiamo ancora Migliorare in questo E essere più cattivi Nei momenti Determinanti Del match Poi è normale Che si può sempre Migliorare in tutto In questo periodo C'è poco tempo Come dicevo prima Per allenarsi Quindi forse Un po' più difficile Quindi probabilmente Bisogna essere molto bravi Soprattutto di testa E stare sempre lì E stare attaccati Alla partita E sfruttare tutte le occasioni Che ci creiamo A tenervi lì sul pezzo Credo che ci pensi Anche abbondantemente Sì sì assolutamente Lui è un martello Non molla Niente Dall'allenamento Al video Pre gara Alle partite Quindi è sempre lì presente Quindi ci carica tanto Ci massacra tanto In allenamento Ma è giusto così Perché lui ci mette Tanta pressione Anche durante l'allenamento E in partita Quindi poi È un po' più facile Non Sai quando arrivi 24 pari C'è un po' di pressione Ma noi siamo abituati Anche perché in allenamento Lui è molto bravo A farci vivere Un po' la partita E questa è una cosa Fondamentale Final 4 di Coppa Mi leggo a quello Che stai dicendo Final 4 di Coppa Finale di Cev Semifinale di campionato Quanto merito ha Adosin Stoicev Al suo rientro Con Kasischi Insomma con qualche Miglioria Portata al roster Quanto merito ha Stoicev Proprio per queste sue Peculiarità No tanto Tanto Perché lui fa lavorare tanto È attento a qualsiasi Dettaglio E poi Ripeto Una caratteristica fondamentale È quella di Ti far rendere al meglio Proprio perché è lì Anche quando tu stai facendo La miglior partita Della stagione Stai giocando A grandi stagioni Lui è comunque lì Se sbagli una palla Ti mette pressione Quindi vuole La perfezione Questo è un Merito Che li va riconosciuto Assolutamente Max L'ultima domanda Te la faccio Sulla Nazionale Nazionale è questo sogno Che continui a seguire E che insomma Metto le mani in tasca io per te Centri Hai centrato E ti vuoi tenere stretto Assolutamente L'anno scorso Ho avuto la fortuna Insomma di Esordire il Nazionale Ho avuto Una grandissima fortuna Di partecipare Ad un mondiale Purtroppo è andata male Però l'emozione di indossare La maglia azzurra Davanti a 10-11-12 mila Spettatori È una cosa indescrivibile Ci sono tantissimi appuntamenti Quest'estate Sì tantissimi La World League La World Cup Che sarà fondamentale Perché ci si gioca un posto Per le Olimpiadi Ci saranno gli europei Tante gare Puoi dirla tua Sì Sì Assolutamente Saremo in tre Tre libri Ma io L'ho detto anche quando ho parlato Con Mauro Berruto Con il CT Io appunto Ad essere libro titolare È lo stesso discorso Che fanno gli altri È normale Però questo è il mio obiettivo Io li ho sempre detto E lavoro per questo Deve essere così Max Deve essere così Secondo me te la meriti Bocca al lupo Crepi Bocca al lupo soprattutto Per il rush finale E poi insomma Per anche la maglia azzurra La tua dedica bella Ne abbiamo parlato Ce l'abbiamo già Per cui chi arriva la seconda volta Ha l'honor e l'onore Di mostrarci anche Le capacità artistiche Ecco appunto Per cui Forse meglio la palla a volo Per me Però va bene So che le tue capacità artistiche Sono eccellenti Per cui vai con il disegno Vai 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 Provo a fare qualcosa Io intanto saluto gli amici Mi rappresento un po' Soprattutto d'estate Ecco allora io immagino Cosa possa fare Mi raccomando Ci guardano anche dei bambini Ecco Io intanto vi ringrazio Vi do appuntamento lunedì prossimo Sempre alle 21 Sempre in diretta RTTR Volley Mi raccomando Adesso vi lascio Al match Andato in scena ieri Gara 2 Quarta di finale Playoff Scudetto Bello Soprattutto Polomino Che imbarca Nascondo Sei tu quello Sì infatti Nascondo che è meglio Adesso la salta del cronica Tra Molfetta e Trento Mi raccomando Lo ribadisco Il 25 aprile Alle 18 Si giocherà il Palatrento Gara 1 di semifinale Max Colacci Ha fatto Una persona scura in volto Ha preso troppo sole In barca E lì è il posto dove Sarai quest'estate Sì Avrò pochissimo tempo Per fortuna Però insomma Sì Quello mi rappresenta Assolutamente Si spera Si spera Buon relax anche a Max Colacci Alla prossima Ciao Ciao